Il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, Achille Coppola, e il Direttore regionale dell'INAIL, Emilio Silenzi, hanno illustrato oggi i contenuti di una convenzione tra i due enti per l'istituzione di un punto cliente assistito presso lo stesso Ordine di Napoli. Sì, è un punto di consulenza dove l'INAIL insieme all'Ordine ha la possibilità di aprire ai propri clienti un punto di consulenza, ma anche un punto operativo dove poter trattare una pratica dell'INAIL sia dal versante aziende, quindi da parte dei datori di lavoro, sia da un versante di lavoratori. Con questo ulteriore sportello si arricchisce l'offerta di servizi ai nostri iscritti e cerchiamo di radicare nella comunità degli affari questo concetto. Avere un commercialista come consulente rende oltre che più qualificata la consulenza, la propria struttura, ma rende anche più semplici gli approcci con la burocrazia. Sicuramente gli aiuti vengono a parte per i dottori commercialisti, ma soprattutto per l'utenza, che non è più costretta a spostarsi, soprattutto quelli che vengono dalla provincia, sulla sede centrale di Napoli, di Nola, di Castellammare, per gli adempimenti relativi all'INAIL. Grazie. 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 Grazie.